un libro al giorno incontra oggi flora villani autrice del libro le carte di antonio l'opriore un medico che si è speso fino all'ultimo nel prestare aiuti e cure per i suoi pazienti anche all'interno di un lager nazista esatto esatto antonio l'opriore è uno degli oltre 650 mila italiani fatti prigionieri dopo l'8 settembre dai tedeschi fu fatto prigioniero nel Kosovo che allora era regione annessa all'Albania e che era di proprietà di occupazione italiana e fu fatto prigioniero l'8 settembre proprio mentre si accingeva a tornare in Italia per una licenza di 15 giorni ironia della sorte la sera dell'8 settembre fu catturato e attraverso inenarrabili sofferenze tenuto prigioniero nel lager di Wasseralfingen nella provincia di Aalen nella regione del Baden-Württemberg in Germania e rimase lì prigioniero fino all'aprile del 1945. Il personale militare sanitario per la convenzione di Ginevra del 1929 alla quale anche la Germania aveva aderito non potevano essere catturati perché erano ovviamente personale addetto alla cura dei malati, dei prigionieri, dei feriti e di quanti insomma si trovavano in difficoltà durante la guerra. Ciononostante i tedeschi catturarono anche il dottor Lopriore anzi lo costrinsero a lavorare successivamente nel lager nella cura degli italiani prigionieri malati. Lui effettuò quasi 5.600 prestazioni sanitarie per 1.400 prigionieri. Ogni prigioniero veniva visitato più volte perché le malattie erano terribili. Una galleria degli orrori sono le carte che il dottor Lopriore ha riuscì a portare fuori dal lager e che sono state conservate dalla famiglia e che sono giunte sino a noi. Sono delle carte importantissime perché a detta dei maggiori storici tedeschi che si sono interessati del tema dei cosiddetti internati militari italiani, la documentazione ufficiale relativa alle condizioni sanitarie dei prigionieri è inesistente e quindi il dottor Lopriore ha fatto un'opera di grande importanza storiografica nel conservare queste carte e la famiglia ha fatto una grande opera nel tramandarle fino a noi. Sono giunte nelle mie mani perché la famiglia Lopriore sono amici miei e quindi hanno messo a mia disposizione questi documenti. Grazie a Flora Villani, autrice del libro Le carte di Antonio Lopriore, dell'Eurosone Edizioni e grazie a Libri nel Borgo Antico, il festival letterario che si tiene ogni anno a Bisceglie e che ospita autori e lettori nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.